Torna l'allarme influenza aviaria. Rafforzate le misure di sicurezza in decine di allevamenti in tutta la provincia di Padova, a partire dalla bassa padovana, per evitare il diffondersi di contagi dopo i casi delle scorse settimane registrati anche in Veneto, nel Veronese e in Emilia-Romagna, in provincia di Ferrara. Per ora non ci sono problemi negli allevamenti avicoli della nostra provincia, spiega Coldiretti, ma è opportuno tenere alta la soglia di attenzione. Primi focolai hanno interessato alcuni stati europei, fra cui Francia, Svezia, Repubblica Ceca e Finlandia. Ora vi sono anche alcuni casi in Italia. Il Ministero della Salute ha emanato un provvedimento volto a dare indicazioni operative per l'attuazione dell'attività di rafforzamento delle misure di biosicurezza e di sorveglianza sul territorio nazionale. Vengono messi in atto rafforzamenti delle misure che riguardano in particolare la pulizia e la disinfestazione e il divieto di entrata nelle aziende di personale non autorizzato.